Buongiorno Che ci fanno? Oggi andrò in un giro a vedere chi fanno i serenzi Come amore? Pesca Signor Grazie. 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 È proprio questo qui il percorso, amore, dove domani ci sarà il macello. Poi la gente sta qui. Il macecorso, le cose, le ragazze. Ma sapete che papà una volta ha guardato proprio il panico? Sì, tipo 25 anni fa. Quando eri giovane è inconsciente. Incosciente sei sempre un po', però giovane no, quindi se lo facciamo ora... ...e lì, è una stagione. ...e l'ho, la figura di amore. ...e l'ho, la figura di amore, la cosa. ...e l'ho, la stagione è un po' laenza. ...e lì, vai in quella striscia di onda. ...e lì, è lì. ...e lì, è lì. Questo, 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 che questi non sono uovi e questo che è uovo. Grazie Babi. Sei contenta amore che abbiamo trovato i gommini? Sì. Yeee. Yeee. Dai. Ci viaggiamo. Vai, me la regala. Non è il mio papà. Tadà. E' amore, ora? E' amore. 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 Che gusto si è? Ciocato. Ciocato è tutto. E' mango. Ciocati mango. E' un asfugato al caffè per te e babbo in un'azione normale. Mi aveva chiesto anche se volevi quello grande. E' amore. E' amore. E' amore. E' amore. Qua è quella è la fattoria. La fattoria è bellissima. Mamma. e nella splendida di questa piazza e nella splendida di questa piazza e nella stessa 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 piazza si torna a Firenze dai torniamo nella calura di Firenze non che qui insomma sia fresco però si sa che Firenze è ancora peggio vabbè dai alla prossima Siena ciao ciao